Yo, bella, t'apposto? Bella, comunque siamo tornati con un nuovo video e come vedete c'è una vittoria tra le due sconfitte C'è una vittoria, sì, quindi andiamo subito a farla, giusto per farvi vedere un po' come stiamo messi Comunque stiamo cercando di risparmiare per fare un'altra rosa Se avete una rosa, se riuscite a farci un'ebrida, con Dumbia e me neanche davanti E dietro magari una premier, ce la scrivete qua sotto e noi cerchiamo di farla Perché stiamo cercando di fare una squadra del genere Yeah Attenzione, la sua squadra se non ci voglio credi dai il bambino come pare passi in mezzo avversario benedici è tutto un bug vai a nego non lo hai chissati 18 18 divieto 18 nostra no ma non pensavo fosse così stupido da passà l'allà oh vittacchi di pippo che ti ha fatto pippo mamma mia che gioco il barbo era andato tranquillo vai eccolo ma ho capito va segnate quel barbo mamma mia mamma mia vittor non ci voglio credi chi c'ha un posto oh no ha fatto no 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 non mi dì ma non è entrata ti è dato il fuorigioco no è dato il gol ma con line quanto serve scusate si ma infatti c'hanno messo no perché dato che non è entrata non è che fanno l'idea con line bella naengolan naengolan e dai lo riacchiappamo subito ninja ninja pelato però va bene così dai cazzo mi sono a te cazzo di perdi cristo ma ingolanda devi correre un po' di più ma leggermente la prendi di testa dai 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 ripartiamo al contrario non so ripartire con l'azione perché guarino sta la c'erebbe sta gervinio ci sai che è barbo sto a lungo di qua bello guarino 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 naengolan 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 fallo vittori parco mamma mia che tiro di merda mamma mia che tiro di merda mamma mia che tiro di merda mamma mia se siamo ripresi si si è la rinascita dei trapani si la riprende di nuovo De Rossi eccolo oh se ne fa due se ne fa due mandavano sopra eh vabbè troppo tardi perché segna victor victor di parco incredibile 3 a 1 questo video sentite da la rinascita dei trapani tazzo si ah ma so io ma si dire è vero come io penso ad essere io ma che ca è perché te avevo visto a te con come cazzo si chiama con co no 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 buco 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 dubbia dubbia eh madonna ha fatto come gli pare lo davo dritto perché so così stronzo? ma c'è Michael che recupera tutto perde palle la recupera fa tutto lui fa tutto lui in mezzo fa tutto lui ma che cazzo De Rossi era? dai che è quasi finita ok? toccatene vai porca troia ah De Rossi ancora 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 De Rossi De Rossi la chiudiamo qua mamma mia la chiudiamo qua quassia si ritorna finalmente a due vittorie non di fila perché quello è troppo però ha due vittorie è 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